Aurora Ramazotti ha già battezzato il figlio, tutti i dettagli. Grazie a tutti. Il papà di Aurora, Eros, non si è fatto vedere, visto che era impegnato a passare qualche giorno di relax totale fra una tappa e l'altra del suo tour con la nuova fidanzata, Dalila Gelsomino. Il Corriere del Ticino ha raccontato che dopo aver scattato qualche foto di rito e aver partecipato ad un piccolo aperitivo. Aurora Ramazotti sarebbe poi tornata nella sua camera nella struttura che l'ha ospitata e da cui è stata dimessa lo stesso pomeriggio di domenica. Il papà Goffredo Cerza ha svelato il vero nome del bebè. La conferma del nome del bebè appena venuto al mondo è arrivata con un tenero post con cui Aurora Ramazotti e il padre del piccolo Goffredo Cerza hanno annunciato il suo arrivo al mondo. Goffredo Cerza, ad ogni modo, ha svelato poche ore dopo che al piccolo è stato in realtà assegnato un doppio nome. I genitori del bambino hanno deciso di chiamarlo Cesare Augusto, un evidente omaggio al primo vero imperatore di Roma. La rivelazione è giunta sulle Instagram stories di Goffredo Cerza, che sul noto social ha condiviso la foto di una torta con il nome completo del bambino. La mamma del bebè, nel frattempo, si sta prendendo qualche giorno lontana da internet. Aurora ha raccontato di volersi tenere distante da Instagram per un po', per godersi il bambino e abituarsi a questo cambiamento radicale nella sua vita di donna adulta.